Ciao a tutti ragazzi sono lo scuola del tube e benvenuti in questo nuovissimo video vlog Io l'anno scorso ho fatto questo vlog perchè è il cosa cazzo sto gesticolando con le mani in po' Il 14 settembre io per tutti quelli che iniziano la scuola domani vorrei augurarvi un buon anno scolastico Anche da parte mia che comunque sia io sono youtuber di tra parentesi hobby e vita studente ancora E niente l'anno scorso ho fatto lo stesso questo video augurandovi un buon augurio per un buon auspice per quest'anno di scuola Quindi io voglio mantenere questa tradizione Detto questo ditemi sotto nei commenti voi magari che classe fate qual è la vostra materia preferita qual è che non vi piace di più La mia materia sinceramente che ho di più è la matematica come più o meno tutti e la materia che mi piace un po' di più è l'inglese Proprio io sono diciamo abbastanza portato con l'inglese ma detto questo io vi auguro un buon inizio a scuola Vi ricordo che dalla settimana prossima a lunedì riusciranno tutti i video Tre video a settimana a lunedì a mercoledì e venerdì scusate per la voce ma penso che abbia le placche Detto questo vi ricordo di passare la pagina Facebook e Instagram come nei video lascio nella descrizione vi raccomando Arriviamo a 20 like per questo vlog se vi va se non vi va ciccia vappa e vaffan bagno Ci si becca al prossimo video Ciao ragazzi